ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita come potete vedere oggi stiamo avviando elite dangerous dopo più di un anno da quando lo avevo portato con mirko con gameplay channel più di un anno da quando l'ho giocato l'ultima volta è uscita questa nuova espansione 34 99 si chiama odyssey ci sono voluti più di sei anni ma finalmente abbiamo le gambe per poter camminare ma questo video non sarà uno snocciolare di diciamo cose che si possono fare in gioco a livello proprio visivo ma voglio spiegarvi un paio di cose sulle nuove cose che sono state aggiunte infatti non voleremo vi mostrerò quello che saranno i nuovi menu e soprattutto una piccola precisazione che non tutti fanno per quanto riguarda la possibilità di atterrare sui pianeti andiamo a vedere la prima battuta che mi viene da fare è perlomeno qui stanno seduti gli npc vabbè che cosa è questo luogo beh questo luogo è il luogo il pansin ab dove io ero atterrato l'ultima volta che avevo giocato dell'intera pensate ero atterrato nella zona in cui comunque io minavo vi facevo vedere le varie cose sono atterrato qui dentro la nave poi è finita sotto grazie agli ascensori insomma che portano le navi sotto le parcheggiano e poi ho preso l'ascensore sono uscito che cosa è stato aggiunto appunto la possibilità di camminare ma soprattutto tante altre cose sono stati aggiunti dei tool che noi possiamo utilizzare dai classici fucili a i tool poi per le pistole fucili insomma fino ad arrivare a l'hacking e al a strumenti che permettono la scansione che cosa servono questi beh questi servono a le armi ovviamente per sparare la scansione permette di scansionare magari vedere l'identità di alcune vittime che troviamo lungo il nostro percorso e soprattutto poi possiamo anche prelevare addirittura il livello di autorizzazione di una guardia morta ad esempio per poter bypassare delle porte bypassare dei sistemi che sono magari preclusi a ospiti come possiamo essere noi appunto come sconosciuti questa è una delle grandi novità introdotte è possibile overloadare le porte quindi scassinarle ed entrare e quindi poi accedere a sempre più nuove zone poi ci sono vabbè i terminali terminali adesso ci si accede col tasto e vedete che li apre in modo molto soft ci si muove con w sd con spazio si va a aprire il menu e poi entrare ufficialmente in quello che era il menu anche della classica modalità sulla nave in questo caso vediamo l'authority contact con le varie varie possibilità di servizi è possibile prendere le navette quindi è possibile dovrebbe pagare le tasse insomma è possibile dicevo pagare le navette per potervi muovere all'interno di del sistema del sistema o anche tra vari sistemi stellari insomma qui è possibile vedere le varie personalizzazioni le varie navi è possibile vedere i vari pack i cockpit personalization insomma tutto quello che è lo store che normalmente si dipendeva da menu diciamo addizionale del gioco abbiamo l'olomi quindi abbiamo la possibilità di vedere il nostro personaggio quindi abbiamo la possibilità di andare a vedere com'è fatto abbiamo la possibilità di scegliere se indossare o meno il casco sempre o solo in caso di emergenza se farci uomo o donna andare a personalizzare il nostro ovinino che tecnicamente dovrebbe essere sempre personalizzabile sempre modificabile quindi non è una scelta che voi fate poi per sempre va bene questo era il pannello che potete esplorare all'interno delle stazioni potete parlare con le varie persone andare a parlare e vedere i dettagli loro possono offrirvi delle missioni quindi le potete accettare vi fa vedere anche il livello di alleanza che avete con quella fazione quindi potete scegliere appunto l'impero l'alleanza insomma le varie fazioni che conoscerete del gioco la reputazione vedete che con quello di prima avevo una reputazione massima con quello di adesso non era un po più bassa vedete siamo più nella metà quindi qua ci dà il livello di minaccia e così via e quindi le missioni consistono nel prendere la nave andare sul pianeta e raggiungere determinate location fare determinate missioni quindi accedere a basi sfondare le porte uccidere nemici recuperare oggetti bypassare dei terminali che accadono insomma si può volare ma nel mentre scendiamo verso la nave vi voglio spiegare l'ultima cosa io ho il volcio adesso non la guiderò perché non ho collegato il pad quello che vi voglio spiegare rispondere a una delle domande più fatte si può atterrare ovunque no questo non viene detto spesso quello che noi possiamo fare è atterrare sui pianeti anche con atmosfera cosa che non si poteva fare con horizon ma soltanto sui pianeti con atmosfera fino a 0.1 atmosfere che significa significa che se guardiamo il sistema solare nostro giusto per farci un'idea possiamo atterrare su pochissimi pianeti una luna di saturno una luna di marte mi pare su plutone sulla luna tutte quelle diciamo atmosfere non così dense se non sbaglio la terra è molto più alta di 0.1 quindi cosa significa che nello spazio dovete scansionare i pianeti e poi potrete atterrare solo con quelli con l'atmosfera fino a 0.1 atmosfere che significa questo significa che non potrete atterrare sui pianeti ad esempio gli earth like i pianeti che assomigliano alla terra quindi atterrerete bene o male sempre su pianeti di tipo desertico di tipo canyon e così via questo è il modo in cui si sale qui vedete potete salire anche con altre persone quindi prendere una cryo sit e quindi trovarvi con un amico e giocare non sia mai che magari parteciperò con con mi e con di camp di channel magari un domani possiamo disembark quindi riscendere non c'è l'animazione della discesa possiamo riparare le stock questo hanno reso molto veloce il la pratica di refuel della nave la riparazione e il restock del delle cose tornare in superficie quindi a questo punto noi non potremmo ovviamente scendere però torniamo in quello che era l'ambiente di prima non so dire che ancora perché il gioco ripeto devo proprio sonociolar me lo volevo solo farvi questo video di diciamo di di anteprima per mostrarvi un attimino quello che gioco ha da offrire al momento non decollo nemmeno perché perché non ho il pad collegato il lotus gioco assolutamente da giocare con lotus in questo caso vedete che io sono tornato dentro perché non si può andare a camminare nella zona sopra quindi la nave viene parcheggiata qui e poi noi possiamo scendere a parte questa cosa della della dell'atmosfera che non viene detto detta mi domando quante varietà di diciamo di stazioni ci saranno ma calcolando che le stazioni sono solo all'interno di una determinata bolla quindi magari non saranno tantissime come varietà però quello che si può fare è anche figo incontrare altri giocatori che camminano all'interno della stessa stazione ma la grande cosa che mi ha stupito nel provare il tutorial il tutorial che credo non sia nemmeno accessibile adesso perché l'ho già fatto è proprio la varietà di cose da fare la scansione di determinate cose il trovare oggetti trovare munizioni luttare casse ne ho trovate veramente tante ed è figo come come concetto il trovare materiali quindi adesso non so ancora se si potrà minare personalmente o solo con la nave però è interessante questa cosa perché nel tutorial più su questo pianeta mi sono trovato di fronte a un ci potete prendere l'SRV quindi il rover esplorare andare e scansionerete anche la vegetazione dove la vegetazione c'è e che dire d'altro star citizen io non mi sento fatto una battuta all'inizio sulle persone sedute che su star citizen non sono ancora riusciti a farcele stare sedute ma parte questo star citizen ha altre peculiarità che secondo me non ha ancora questo gioco tutte quelle micro cose per gli appassionati dei dettagli ad esempio l'omino che apre il portellone della nave l'omino che fa la sale sulla scala l'omino che cammina all'interno della nave mentre in viaggio cosa che al momento su elite non si può fare è stata aggiunta un'ottima componente di missioni un'ottima componente di shooting ma non ci sono ancora tutte quelle particolarità lì ci sono voluti tanti anni c'è questa cosa sicuramente avete un comparto tecnico un comparto in generale che è senz'altro fatto in modo più accurato rispetto evit cioè meno buggato voglio dire più di così onestamente allora su steam a tante recensioni negative questa questa espansione perché tanti hanno trovato tanti bug io ne ho trovato uno ve lo dico onestamente all'inizio quando dovevo aspettare una nave per lasciare il tutorial che doveva venire per vendermi questa nave non arrivava e cosa ho fatto sono uscito dal gioco sono rientrato ma c'erano anche problemi di connessione col server infatti è rimasto down per qualche ora ieri che però era il giorno di rilascio della dell'espansione quindi sono uscito aspettato un po sono rientrato non avrà arrivata quindi ho concluso però è un bug qua parlando con questa vedete potete mettervi in lista per una fazione per arvolarvi a in una guerra in pratica e sta potete vedere che ci sono nel sistema dove mi trovo ora ci sono delle battaglie dice no qua non ci sono conflitti qua ci sono e quindi qua potete andare direttore a scegliere uno dei due schieramenti e fare la battaglia e prendere in caso di vittoria 120.000 crediti è interessante questa cosa all'interno del prendono più vita ovvio che elite inserendo i fucili prende meno l'aspetto di un simulatore puro di viaggio spaziale per quanto sia fantascienza comunque è comunque reputato un simulatore diventando un pochino più action senza altro troverete di fronte forse a meno bug meno crash rispetto a uno star citizen però ovviamente rimangono giochi secondo me ancora diversi la pesantezza di portare una nave si sente di più qui rispetto a star citizen però ci sono più particolari in star citizen che qui mancano come appunto l'inventario sulla nave il fatto comunque di invitare amici di avere le bandine per dormire per passare per viaggiare all'interno di quel sistema esplorare i pianeti esplorare le città non ci sono qui questo è un gioco che prende tutto quello che era prima e l'indangerous quindi un gioco di esplorazione spaziale dove potevate stare in viaggio per dei mesi interi ci hanno aggiunto le gambe al personaggio la possibilità di camminare sui pianeti di scansionare quindi ottenere ulteriori dati di scansione visitare le stazioni incontrare i vostri amici direttamente all'interno dei terminal ma tutta la struttura della nave rimane invariata a parte l'aggiunta dei nuovi moduli per poter potenziare la nave e permettergli di atterrare su sui pianeti perché serve appunto quello qua avete il loadout quindi è possibile anche andare a modificare la tuta la tuta ha un energia e l'ossigeno e quando poi l'energia va a finire iniziate consumare l'ossigeno quindi all'interno delle stazioni dovete andare a ricaricarvi l'ossigeno avete i tipi di armature cioè di cose ce ne sono veramente tante le armi primarie secondarie potete personalizzare la la vostra armatura devo ancora andare a capire esattamente dove si prende dove si potenzia il scusate la nave questo è l'interstellar transport quindi qua è possibile prendere uno shuttle a lungo raggio o a corto raggio e quindi potete andare qua e pagate una una certa cifra per viaggiare lì vedete che poi loro ci portano selezioniamo una zona una stazione di quel sistema e vedete il costo il booking e questo è lo shuttle questo vendono i fornimenti il pioneer supply quindi i vari fucili e volevo trovare quello per potenziare anche la nave ma non ricordo dove qua dovrebbe essere sono interessato nei servizi sia per il classico menu dove possiamo acquistare nave o amministrare la nostra nave abbiamo il vulture il python avevo il python è vero avevo il python io adesso ho il vulture non mi ricordo perchè lo use this ship sell no landing pad medio no non posso usa questa nave questa è la tua nave corrente non possiamo potenziarla no no credo che sia solo la possibilità di local ship storage capacity 40 possiamo metterne dentro diverse no deve essere un altro negozio però è interessante perchè comunque dovete scendere dovete agire direttamente voi senza doverlo fare dalla nave questo è quello che abbiamo visto prima per le missioni a terra da accettare qua abbiamo l'interstellar transport ancora niente stiamo girando stiamo girando un po' un po' a vuoto però è veramente interessante la cosa che non so dirvi dovrò sperimentarla e se qua vedrete i vostri amici atterrare o meno però è veramente immensa il fatto di potervi guardare in giro così e vedere le navi atterrare è fatta è fatta bene questa espansione senza dubbio e questo è un minuto biologo qua potete vendere i dati organici che avete raccolto quindi avete scansionato dai vari pianeti è fatto in modo secondo me è ottimale questa espansione perché ok è meno sognatrice di quella di star citizen nel senso che non avete quelle mille chicche però mi sembra un'espansione un'aggiunta coerente a quello che era già il gioco non va a snaturarlo gli aggiunge un botto di cose già un botto di cose ce ne avevano da fare prima sarà da vedere perché questa espansione è ottima ve la posso consigliare se avete amato avete amato reddit assolutamente sì spero soltanto davvero che non si fermino qui che continuino ad aggiungere cose e non si debba aspettare altre altri anni per poter aggiungere cose vedete che la non potevo scendere perché probabilmente la mia nave infatti è da questa parte non dall'altra questa è un'altra che da per quanto riguarda la scansione biologica ricorda anche lì un pochino anche no man sky ma qua lo fa ovviamente più in modo molto più pesante molto più cioè non è che atterrate in due secondi come di qua dovete proprio andare in glide a terra sul pianeta andare scansionare non vedo l'ora non vedo l'ora perché mi farò una nave adesso apposta per l'esplorazione planetaria e poi sarà figo proprio andare a esplorare le minime cose chissà magari sono state giunte tanti segreti tante cose da scansionare tanti panorami da vedere camminando e non andandoci solo col rover qua potete comprare i consumabili quindi le granate i medic kit le power cell avete anche lo scudo da attivare col tasto c qua abbiamo possiamo acquistare le tute possiamo acquistare le armi al momento questo ha queste armi qui che costano un po un tot 84 milioni ma l'idea quella di prendermi la nave grossa posso aggiornare la mia suite la fly suite cos'è no perché questa è la suite base quindi non posso non posso venderla posso vedere tutti i produttori è bella questa bella questa cosa qui con le varie marche di tuta allora ragazzi vi ho fatto un pochino sognare spero di sì gioco costa 34 e 99 ecco la cosa più importante è quella della gravità della gravità della dell'atmosfera scusate 0.1 atmosfere al massimo quindi pianeti che comunque hanno un'atmosfera molto molto limitata quindi non aspettatevi grossa vita organica ma soprattutto pianeti desertici se arriverà mai un'atmosfera come quella della terra e pianeti earth like vi dico la mia onestamente vedo dura ok sono abbastanza rari nella galassia però come la fanno come la rendono vedo giochi come empirio non ci hanno messo una vita aggiungere tutta la vegetazione e i pianeti generati randomicamente quindi non lo so però chissà questo gioco qui se hanno un progetto a lungo termine cioè farlo durare per che so un decennio ancora ci si può sperare dipende sicuramente questi sono appassionati hanno ripreso in mano un gioco degli anni 80 e l'hanno reso veramente molto bello riproposto oggi appunto io vi dico mi divertivo già quando questo gioco non aveva niente ora ci sarà da divertirsi davvero vedrò di organizzarmi per fare una cooperativa insieme a mirco e testare magari qualche mission cina da fare insieme ragazzi con questo è tutto fatemi sapere non mancate come al solito di lasciarmi i vostri commenti scritti qua sopra di cosa ne pensate alla prossima e ciao 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 ciao